carissimi amici siete pronti a scendere in pista io sì e sono nel posto giusto che fa per voi mi trovo da motostyle concessionaria ufficiale suzuki sono nel cuore di rivoli in corso francia 12b e rivedo con grande piacere enrico foradini ciao ciao cara e benvenuta qua in concessionaria suzuki ufficiale per torino e provincia bene e accanto ad enrico naturalmente c'è anche carlo che mi guiderà in questo splendido showroom alla scoperta dei modelli suzuki e soprattutto delle super promozioni ciao certo buongiorno a tutti i clienti un'azienda completa per quanto riguarda la vendita ma anche l'assistenza un team di 20 professionisti al vostro servizio che vi sapranno consigliare sicuramente al meglio 2200 metri quadrati a vostra completa disposizione e per il parcheggio non c'è alcun problema perché a due minuti c'è un parcheggio coperto multipiano completamente gratuito per voi che verrete ad acquistare un prodotto di casa suzuki qui da moto style una puntata molto ricca di promozioni abbiamo detto vero enrico ma anche di novità per esempio demo ride certamente allora abbiamo sicuramente le moto suzuki in prova quindi basta o prenotarsi verso il nostro sito quindi moto style oppure chiamare il giorno prima due giorni prima per trovare la moto bella pronta in in prova l'importante è registrarsi comunque quindi telefonate contattate moto style e fatelo al più presto certamente certamente e poi se la moto vi è piaciuta abbiamo anche finanziamento ufficiale suzuki con rate da 99 euro oppure con rate da 149 euro quindi diciamo con una rata piccola bassa sicura potete portarvi via la moto e andare a sfrecciare in giro con la suzuki nuova nuova bene noi carlo siamo pronti a partire allora abbiamo detto rate piccole piccole e prodotti di qualità state con noi e cominciamo dalla novità carlo il bustro certo è la la novità di quest'anno il bustro 1050 xt con il suo sistema innovativo siersi suzuki intelligence ride system che comprende sette innovazioni praticamente la sullo con la piattaforma inerziale che lavora su sei assi e tre direzioni abbiamo un assistenza alla frenata in curva l'assistenza alla partenza in salita l'assistenza sulla frenata in discesa per l'antiribaltamento e l'assistenza sulla frenata con moto con un pilota con il passeggero e addirittura anche con i bagagli poi abbiamo il cruise control e il suzuki drive mode selection che ha tre mappature la sport touring o e rain traction control e con tre livelli di assistenza e l'acceleratore ride by wire vi ricordo inoltre la pronta consegna della moto nelle tre colorazioni bianco arancio gialla e nera pronta consegna anche per bustro 6 e mezzo si ricordo che la promozione sul bustro 650 continua sino a fine medie che comprende il kit touring borse laterale paramotore cavalletto centrale paramani borsa serbatoio e parabrezza maggiorato prezzo promozionale per katana jindachi perché soli 11.100 euro con un kit di accessori interessantissimi lo scarico a kravkovic la sella bicolore le deco stripe in carbon look e il cupolino bene in casa suzuki parliamo naturalmente anche di scooter e ricordiamo burkman sì c'è sempre la super promo sul burkman 400 uno scooter con classe e praticità che da 7.900 euro lo proponiamo a 6.990 su strada non dimentichiamo burkman 650 si continua la promozione anche su burkman 650 esecutive con i 650 euro di buono carburante prezzo promozionale per gsx 750 si continua la promozione di 700 euro dal prezzo di listino si può avere anche con il depotenziamento e nella versione yugen che comprende lo scarico sc project il cupolino e il paraserbatoio bene venite a scegliere la vostra moto di casa suzuki ma soprattutto venite a provarla ricordiamo enrico il demo ride certamente 29 di marzo vi aspettiamo qui da noi con un bel rinfresco e con soprattutto la vstrom 1050 perché c'è proprio il tour vstrom e poi ricordiamo sempre la settimana prima tutti i modelli in prova basta telefonare andare sul sito e registrarsi naturalmente no naturalmente ricordiamo anche l'assistenza e il magazzino ricambi ve lo ricordo un'azienda completa come professionalità come competenza come qualità al vostro servizio in casa suzuki e vi ricordo un fornitissimo showroom dedicato all'abbigliamento sempre di casa suzuki sì abbiamo tutte le repliche moto gp e quindi tutto l'abbigliamento suzuki come dicevi giustamente l'officina con sei meccanici quindi anche l'assistenza perché è facile vendere poi bisogna anche seguire il cliente e assecondarlo e insomma tutto qua in casa tutto qua moto style il team di moto style a vostra completa disposizione naturalmente per servirvi al meglio ricordiamo l'indirizzo carlo il comodo parcheggio a due minuti a piedi certo siamo a rivoli in corso francia 12 di fronte abbiamo un parcheggio convenzionato per tutti i clienti bene grazie a carlo grazie ad enrico grazie a voi e grazie soprattutto a moto style concessionaria ufficiale suzuki qui nel cuore di rivoli in corso francia 12b alla prossima